Praticamente siamo appena entrati al che te pare Miro ha smasciato una birra Diciamo che Miro non è tanto abituato Cri, mi puoi dire per favore cos'è che ha detto Miro quando si è andato a dirli che ci avrebbero offerto un drink? C'è un po' che hanno preparato un po' qualcosina anche per te Miro non è abituato E voilà, aspetta riprendi anche me Io la trovo Non è abituato Non lo è Non lo è Non è abituato Comunque ringraziamo Mi chiedo Adesso devi piangere e rattristarti anche te Ho già rattristato male Mi ha fatto vedere le foto sul PC a casa Cosa stai fare? Ringraziamo anche te pare Grazie Grazie Benissimo Benissimo Perché siamo ancora a Torino Siamo anche a portare Una mi stava facendo vedere le foto dell'altra settimana eccetera E lì mi sono accorto di aver dimenticato a casa Bracciale, la retina, i due bracciali Questi sono problemi Miro, questi qua sono problemi Dai, ciao Quindi quando